Il più grande vantaggio di lavorare con IncrediBuild nell'ambito dei videogame è quello di avere iterazioni molto veloci in un processo creativo. Sono Gianluca Barbera, direttore tecnico di Mystone. Mystone è un'azienda di sviluppo e di publishing di videogame con sede a Milano. In generale in Mystone non ci accontentiamo, quindi cerchiamo sempre di ottimizzare e migliorare i processi, gli strumenti e quindi in generale i prodotti che sviluppiamo. IncrediBuild contribuisce a far sì che Mystone possa essere una compagnia di sviluppo videogame multipiattaforma grazie alla capacità di accelerare tutto il processo di creazione delle build appunto per varie piattaforme, incrementando la produttività di tutti quanti. Integrare IncrediBuild nel nostro workflow è stato abbastanza semplice, proprio perché IncrediBuild è già pensato e testato per poter lavorare in ambito gaming tramite l'utilizzo di Unreal. Mystone senza IncrediBuild non avrebbe di sicuro potuto raggiungere la capacità di sviluppo di più giochi in parallelo. Devo dire che anche nel periodo di inizio pandemia abbiamo avuto modo di sentire tutti i ragazzi di IncrediBuild sufficientemente vicini nell'appoggiarci in questa importante trasformazione del lavoro. Mi sento di raccomandare sicuramente IncrediBuild a chiunque volesse affrontare lo sviluppo di videogame con Unreal Engine in generale, perché anche per gruppi piccoli il guadagno di tempo e quindi di efficienza ed efficacia del proprio lavoro ha un boost impagabile.